Priscilla ASMR Ciao Benvenuto o bentornato sul mio canale Io sono Priscilla ASMR e questo è un canale di rilassamento in particolare oggi andremo a fare un rilassamento guidato che è tanto tempo che non ve lo propongo e mi è stato molto molto richiesto ti consiglio di indossare le cuffiette o gli auricolari perché io parlerò da orecchio a orecchio ci farà compagnia il suono meraviglioso di questa candela che tra l'altro è stato un vostro regalo e ve l'avevo già fatta vedere avevo già fatto i vari ringraziamenti e potete trovare il link della wishlist qui sotto nell'info box se volete ve lo regalino al canale detto questo prepariamoci ad un rilassamento molto 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 profondo cominciamo con una buona respirazione che è alla base di qualsiasi forma di rilassamento quindi respiriamo un po' insieme molto 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 profondamente ancora 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 bene così lasciamo andare tutte 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 le tensioni che stessi si collocano qui sul nostro collo sulle nostre spalle sulla nostra nuca sul nostro stomaco sulla nostra mente e le tempie su tutti i muscoli del nostro corpo che per colpa dello stress sono molto tesi e allora oggi insieme sciogliamo questi muscoli sciogliamo questi muscoli oggi ci sono io che ti aiuterò a fare questo chiudi i tuoi occhi 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 ti piace questa candela? ha un suono meraviglioso allora adesso che hai chiuso gli occhi stenditi completamente e stendi anche le tue braccia lungo il tuo corpo e comincia a sentire questo fuoco che arde e parte proprio dal palmo della tua mano che è rivolta verso l'alto e a percorrere le tue dita il pollice l'indice il medio l'anulare e il mignolo poi va sul dorso e arriva al polso poi va sul braccio e l'avambraccio e continua a salire sale, sale, sale e arriva alla spalla e dalla spalla passa al collo e dal collo passa all'altra spalla e di nuovo braccio e avambraccio e di nuovo polso le dita della mano le dita della mano pollice indice medio anulare mignolo mignolo torso della mano e il palmo dal palmo torniamo al braccio all'avambraccio senti questo calore che sta passando dentro di te collo collo e arriva alla testa sulla nuca senti questo calore sulle tempie sulla fronte sulla fronte sul naso sugli occhi sulle guance sugli zico sulle labbra sulla mascella e sul mento e di nuovo scende sul collo e andiamo al pezzo e di nuovo scende il tuo petto si sta infuocando ma è un calore piacevole e assolutamente non fastidioso né tanto meno pericoloso è il calore dei muscoli che si sciolgono e scendiamo ancora e andiamo sul posto sulla vita e sui fianchi ti stai scaldando ti stai scaldando e ogni parte di te si sta sciogliendo e dai fianchi e dai fianchi andiamo sui glutei sulle cosce sulle ginocchia sui polpacci sui polpacci sugli stinti le caviglie il torso del piede destro il torso del piede sinistro la pianta del piede destro e la pianta del piede sinistro e poi su tutte le dita dei piedi ormai sei tutto 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 accaldato da questo fuoco di rilassamento che ti ha percorso da testa a piedi ed ogni muscolo ogni singolo muscolo si è sciolto stai cronato 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 lentamente 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 grazie a tutti Grazie a tutti. Ti stai abbandonando alla mia voce e a questo rilassamento. Non ci sono più ansia, non ci sono più paura, non ci sono pericoli, non ci sono dubbi. Lo faccio solo, 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 solo. Tanto, tanto, tanto. Relax. Grazie a tutti. 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 Buonanotte Buonanotte Andrà tutto bene Buonanotte 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 Buonanotte